0-0 il risultato finale tra Arona e Città di Consatolo, 0-0 che però non deve far pensare a una partita a Scialma ma è stata una partita bellissima che valsa il biglietto d'ingresso per i 200 spettatori, 200 record stagionale per l'Arona per assistere a questo confronto, ma Arona che ha giocato e ha tenuto maggiormente la palla e ha avuto chiaramente più occasioni, tanto che i corner sono 8-2 per la squadra del San Carlone.